Sindaco, una settimana è passata dall'avvio alla raccolta differenziata, lei ha fatto un bilancio in cui ha parlato di luce d'ombre però ecco c'è il dato positivo che comunque il volume della raccolta differenziata è aumentato I dati che abbiamo esaminato dall'11 marzo al 18, che sono la prima settimana, sono molto incoraggianti portano una raccolta differenziata pari al 55% circa, chiaramente è un dato parziale, è soltanto indicativo perché il bilancio deve essere fatto su base mensile però è incoraggiante perché la differenziata a Canicati i cittadini la fanno e la fanno volentieri, vi sono tanti cittadini virtuosi che stanno collaborando Lei parlava pure di ombre, è chiaro che le ombre vanno ravvisate in tanti disservizi che il servizio di raccolta sta mostrando in questi giorni perché mentre per quanto riguarda le utenze domestiche le correzioni sono state messe in campo e al 90% la raccolta avviene correttamente Le maggiore difficoltà le stiamo incontrando per attività commerciali, soprattutto per quanto riguarda la ristorazione per i quali i passaggi non sono costanti, non sono corretti e quindi a volte gli esercizi commerciali rimangono carichi del rifiuto che doveva essere svuotato nella giornata Stiamo apportando degli aggiustamenti, delle modifiche, dei potenziamenti in ordine al servizio stesso Infatti in questi giorni siamo in riunione operative anche con il responsabile Ditte per apportare queste correzioni Questi dati appunto ci fanno ben sperare per il futuro L'invito che rivolgo ai cittadini è quello di continuare così, di darci anche una mano nel denunciare coloro i quali non fanno la differenziata coloro i quali stanno deturpando il nostro territorio In questi giorni abbiamo adottato anche delle misure oltre che di controllo anche di sanzione Il controllo verrà fatto anche durante le ore notturne E se questo fenomeno è controllato risulta per certi aspetti controllato all'interno del centro abitato che appunto sta mostrando soltanto pochi isolati casi di abbandono incontrollato dei rifiuti purtroppo abbiamo constatato che nelle periferie invece ci sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto e quindi la nostra attenzione nei prossimi giorni si rivolgerà soprattutto verso le zone periferiche della città Considico c'è qualcuno che ancora lamenta il fatto di non aver ricevuto i mastelli, i kit perché sono stati prenotati il numero non sufficiente o comunque molta gente è arrivata in ritardo e nel momento in cui è andata a richiedere il kit non lo ha trovato Che tempi ci sono per queste persone? Noi contiamo nei primi giorni della prossima settimana di procedere alla consegna dei kit mancanti quindi dovrebbero arrivarci a giorni e quindi procederemo alla raccolta di coloro i quali si sono prenotati ma anche di coloro i quali non hanno fatto in tempo a ritirarlo questo appunto rientra nell'ambito dei disservizi di cui parlavo quindi il nostro primo obiettivo sarà quello di completare la consegna dei mastelli agli utenti completare la fornitura alle attività commerciali e alle utenze non domestiche alcune delle quali ancora risultano che non hanno appunto a disposizione i carrellati per fare la raccolta e procederemo anche alla consegna a domicilio nei confronti delle persone disabbe o degli anziani che non possono spostarsi e quindi per i quali abbiamo già un elenco e capite che è un momento di grande difficoltà anche da parte nostra perché la gestione del servizio in questo modo è completamente nuova quindi i disagi di servizi ci stanno stiamo facendo il massimo per ridurre questi disservizi nel più breve tempo possibile e quindi offrire un servizio di raccolta che sia confacente con gli standard che ci siamo prefissati grazie 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 a tutti.